Ha già parlato dell'eventuale sostituto, dal punto di vista proprio tecnico ci puoi spiegare ancora a che punto siamo? Qual è la scalenza della base con le scesorie, se il Bayern ha fatto tutto quello che doveva fare, a che punto siamo? Io sono appena arrivato, noi da lunedì cominceremo a fare unioni e cominceremo a programmare quello che c'è da fare, ora io credo che prima di me non è che sono stati con il mare in mano, quindi hanno fatto già Micheli e il Presidente, appunto il Dottor Chiavelli, sono andati avanti con il loro lavoro, poi ci sarà una voce in più che darà anche magari il suo parere, le sue considerazioni, ma ripeto, Kim sicuramente è un giocatore che andrà sostituito, e quindi lavoreremo con questo. Massimo Golini, Sky. Buon pomeriggio, il Presidente ha parlato di...